C'è il male che la perdita della dignità, si è perduto per molti politici, non tutti per carità, ma la buona parte, il senso della propria dignità, il fatto che il servizio allo Stato deve essere svolto, come detto del resto, la Costituzione, mi pare 54 l'articolo, con disciplina e onore. Ma si guadagna poco, si rischia di andare sempre in galera, si rischia di finire in un angolo della politica per un non nulla, perché dovrebbe fare l'agente di valore? E' quello, il problema è quello lì, difatti l'agente di valore veda una volta, io me lo ricordo, una volta l'arruolamento nella politica, era dei giovani migliori, era un compito giudicato luminoso andare ad aiutare il tal onorevole e il tal ministro, oggi qual è il giovane di valore che va a portare la borsa a questo o a quello? Va a fare un management a Londra, va fuori, diventa ingegnere e di necessità il livello della classe politica si abbassa ad un livello che è troppo basso per resistere alle spinte che ogni politico, in ogni paese, in ogni epoca ha le opportunità che si creano. Allora però, nell'antica Leverrine, cioè nell'antica Roma, dove i direttori, i governatori di una provincia rubavano, Cicerone faceva le orazioni, perché anche quelli avevano a disposizione, Ponzio Pilato, il famoso, in Medio Oriente diciamo, rubava. La politica ti mette nelle condizioni di rubare, neanche solo in Italia, dappertutto. Dov'è il freno che devi avere? Devi avere il freno nella consapevolezza del ruolo che svolgi. La tua cultura, la tua formazione. Difficile fermarli con le leggi.